Abbiamo pensato a sopravvivere, abbiamo pensato a fare anche la base perfetta Ma adesso è tempo di provare a raggiungere la terra ferma E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Steph, e che se giochiamo a Raft? E oggi abbiamo tantissime bellissime novità da mostrarvi, la prima di tutte è il nostro rifugio migliorato Esattamente, tra un episodio e l'altro ci siamo dati un po' da fare perché c'era bisogno di formare parecchia legna E guardate un po' cosa abbiamo fatto, questo si chiama sistema antipasqualo Praticamente abbiamo messo delle fondamenta lungo per lungo, sia a destra che a sinistra Che ovviamente servono a difendere i pilastri E infatti guarda quella E infatti guarda quella Ha già attaccato, ha già attaccato il disgraziato Se vi chiedete perché abbiamo fatto, perché tra un episodio e l'altro Mentre stavamo formando la legna ci ha zannato un pilastro Ed è crollata a metà base Quindi abbiamo dovuto ricostruire un pezzo della base E abbiamo deciso di fare una difesa migliorata Perché non è possibile, Pasqualo ci dà sempre fastidio Ma non è più Pasqualo? E chi è? Non ho pensato a un nome Secondo me è Risorto Dici? Sì, 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 è tornato Pasqualo È tornato dalle profondità marine Sì, sì, sono d'accordo Siamo d'accordo che è Pasqualo? Magari è Pasquala Pasquala? Perché è femmina Non abbiamo mai detto che c'è uno scuolo femmina Scusami Hai ragione, vedi In effetti non è possibile È la moglie di Pasqualo Pasquala, la moglie di Pasqualo La moglie di Pasqualo, lo squalo Che è arrabbiatissima perché ha perso il marito Avete capito tutto, vero? Ed è rimasta da sola coi figli No, uno è già morto perché era Pasqualino E va bene, avrà altri, no? E va bene, avrà altri, no? Pasqualetto, Pasqualino Obiettivo principale di oggi Provare a raggiungere la terraferma D'altronde non sappiamo se è infinito questo oceano Non è specificato nel gioco Quindi almeno un tentativo lo dobbiamo fare Ci si prova Il nostro tentativo cosa sarà? Semplicemente andare dritti con le fondamenta Continuare a costruirle Ovviamente dovremo essere carichi di cibo Perché altrimenti moriamo facendo avanti e indietro E vediamo se andando dritti tutto il tempo Riusciamo a trovare la terraferma O la fine della mappa O la fine della mappa Sarebbe anche quello molto soddisfacente Quindi proviamo a fare questa cosa Ma prima di tutto i consolini ci hanno consigliato Una cosa fantastica che dobbiamo fare assolutamente Io la so già, li ho letti i commenti La so già Ma ce ne hanno consigliato tante cose divertenti Ce ne hanno consigliato tante Infatti nei prossimi episodi Andremo a fare anche alcune di quelle cose che ci hanno consigliato Però per questo episodio che proviamo a raggiungere la terraferma Ne facciamo soltanto una Che forse è la più geniale di tutte Quindi prontissimi per farla vedere? Che fai? E comunque Hashtag Non puoi annunciare queste cose e poi non farle vedere subito Un attimo Hashtag Coccobello Perché ti giuro Che da quando abbiamo il cocco Ho smesso di cucinare Pasquali Ho smesso di bere Ho smesso di fare tutto Faccio così Allora i cocchi I cocchi Li chiamo cocchi I cocchi Non so se si possano chiamare così Però li chiamo cocchi Ok Per la salvaguardia dell'ambiente Non mangiamo neanche più squali È vero È vero Cosa vorrei di più? Perché abbiamo fatto questa cosa? Ve lo starete di sicuro chiedendo Perché dobbiamo fare La palma sacra In onore di Pasqualo Questa è l'idea che ha avuto il consolino Di mettere una palma Sola soletta In altissimo Nella nostra base Dedicata a Pasqualo Perché comunque ci ha regalato delle emozioni Che noi non dimenticheremo mai Forse nessuno squalo Ci ha regalato le emozioni Che ci ha regalato il nostro Pasqualo Quello è vero Va ricordato con una palma Con una palma Ok Non sappiamo se gli piacerebbe Se l'hai ricordato con una palma Però non abbiamo altro Si deve accontentare Non abbiamo altri tipi di piante Mi dispiace Pasqualo In memoria tua Le altre piante Non ci possiamo fare molto Esatto E ho già finito la legna Come sempre Taglio legna Taglio legna E prendi i cocchi Raccolto i cocchi Molto belli Cocchi Mi stai accompagnando? Si E semino pure Altre palme Così ce le abbiamo All'infinito Prendo un'altra palma Per costruire una palma Ha poco senso Però sarà sacra Però va bene Va bene La palma sacra Dalle ceneri di Pasqualo E di altre palme Basta Ti prego Si la smetto Hai ragione Oggi sto partendo Troppo euforica Se avessimo avuto Ancora una bistecca Di Pasqualo L'avremmo potuta Mettere Nella braccia Tenuta assieme Tenuta assieme alla palma Sarebbe stato bellissimo Ad averci pensato prima Non ce lo saremmo Pappato tutto Esatto Abbiamo tutto Ci siamo Pappappà Così Esatto Siamo terribili Siamo delle persone terribili Io lo ammetto Allora No va indietro Perché bisogna Esatto Dal basso verso l'altro E lì ci sarà la palma gigante In onore di Pasqualo Sarà davvero Cioè Pasqualo ormai si è trasformato in pianta È diventata una bellissima palma Che giacerà per sempre lì sopra E ci farà compagnia Eccola Che cresce Eccola Non vediamo l'ora che sia pronta Sarà davvero Bellissima Comunque Questo è fatto La chiamiamo Come la chiamiamo Questa palma Pa Pasqualma Sei sicura? No Siccome è maschio Pasqualmo Pasqualmo Anche se palma è femminile Pazienza Pasqualmo Pasqualmo La palma di Pasqualo Esatto Guarda Sette bassa Fame bassa Hashtag Coccobello Spim 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 Te lo dico È l'hashtag più brutto che tu abbiamo inventato Cioè Di solito li fai più carini Ma Coccobello non si può sentire Coccobello è bellissimo Non si può sentire È il momento di iniziare a costruire La nostra strada La via infinita La via infinita La strada La strada della salvezza Verso la terra Verso la terra Che non troveremo mai Andiamo Secondo me non ci sarà nulla Io lo provo a dire Secondo me non c'è niente Cioè finisce la mappa a un certo punto e basta Ma se arriviamo alla fine della mappa è una figata pazzesca Stai scherzando Cioè guarda già Che roba bellissima Allora Pasquala Non provare a toccare la nostra strada della salvezza Ok Perché se ce la distrugge È ciò che più c'è di sacro in questa base Dopo Pasqualmo Quindi non provare a toccarla Ti portiamo con noi se ti comporti bene Ti portiamo con noi se ti comporti bene Ok sì Anche se tu nella terra non starei molto bene Pasquala Vabbè ma non lo sa capito Non sa se può stare nella terra o meno Hai ragione Quindi tu glielo dici Ti stai zitto Gli dici che la terra promessa è un posto migliore Esatto esatto Quando invece non sa che non ci può stare Quindi a noi non ce ne frega nulla È vero è vero Voglio dire cosa faremo nel prossimo episodio Nel prossimo episodio Cerchiamo di catturare lo squalo Ho in mente Sì Secondo me sì Ma lo stai supponendo tu O l'hai visto Non l'ho visto Ma sono sicuro al 95% Le teorie su raft Di poterlo fare Così sicuro Io ci credo Praticamente noi creiamo una piattaforma aperta Che lascia un varco per entrare Ok Lo facciamo entrare Ci buttiamo in acqua Così lui viene a cercare di morderci E usciamo Chiudiamo quel punto E abbiamo l'acquario per Pasquala Capito? Bellissimo Vero? Io te lo dico dal primo episodio Che voglio lo squalo domestico Esatto E infatti mi è venuta questa idea E ci stiamo riuscendo Ma chi è che nella storia È riuscito ad ad domesticare uno squalo? Noi ci riusciremo Dopo la strada della salvezza Avremo pure Pasquala come animale Allora della serie Che se non riusciamo a scappare da questa zattere Non troviamo la terra Ci accontentiamo di stare con lo squalo Esatto Esatto Hai capito benissimo Riprendiamo un bel po' di legna E continuiamo la nostra strada Ne possiamo fare altre 19 Eh vabbè sono tante Arriviamo davvero lontanissimi Prima o poi moriremo di 7 Tra l'andata e ritorno Anche secondo me Magari ci mettiamo i pentolini Nella strada della salvezza Ci stavo pensando anche io Di mettere qualche pentolino Tipo a metà strada Guarda Perché così ci metti l'acqua Almeno siamo sicuri Guarda Quasi non la vediamo più Hai visto? Sì Quasi non la vediamo più È già lontana È già parecchio lontana Io non so se tu lo noti Ma c'è un effetto linea nera Sì l'ho già notato Cioè si vedeva anche già Dalla nostra costruzione Io non so se poi È un effetto semplicemente grafico Per dare il senso di orizzonte Però non lo so Io non lo so se hanno messo qualcosa Comunque se l'hanno messo Sarebbe geniale Se l'hanno messo Se uno se ne accorge Capito Tu vai e scopri la terra Oh mio dio Guarda che è un bel tentativo Possiamo combinare qualcosa di figo Ci sta Dai ci sta Cioè se la troviamo è epico Ma anche se troviamo Alla fine della mappa O la terra È epico Davvero In ogni caso Sì in ogni caso Sarà proprio la roba fantastica Praticamente adesso Come l'abbiamo vista Cioè vedi che c'è una sorta di alba Che fa proprio il raggio di luce E quindi sembra una cosa eterea Ma ce l'ha già sempre C'è sempre stata Per quella era perfetta lì Io non l'ho notato Cioè vista così dal basso Con questi raggi di luce Sembra una cosa divina E lo è E lo è Assolutamente Bellissimo Ciao Pasqualmo Ti vogliamo bene Vediamo che sei in forma Sì 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 Davvero in forma Ti voglio far vedere anche un'altra cosa Cosa? Il potere della palma sacra Guarda cosa ci permette di fare La partisco il sì Il lancio verso la via della salvezza Esatto Dalla palma sacra Senza farla posto Tu vai verso la salvezza È tutto collegato È molto emozionante Quindi è tutto un passaggio Cioè se tu passi da terra Non puoi intraprendere la strada Se invece passi dalla palma Perché tu devi avere proprio fiducia nella palma Il volo della speranza Fare proprio un volo Basta 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 Stiamo avanti Stiamo esagerando Perché se no qui continuiamo per altri 5 minuti Stiamo esagerando Vai vai dritto Comunque possiamo farne altre 38 Quindi secondo me adesso scopriamo qualcosa Da qui non vediamo ancora nulla Ma Cioè non la vediamo quasi più Ti farei notare che una delle cose che non ti dico più è la palma La palma della salvezza Tu saprei sempre dove tornare Con Pasquale Come se fosse un faro che averti marinai Noi abbiamo la palma della salvezza La palma della salvezza La palma sacra Ne abbiamo altri 31 Da qua si vede quanto è lungo ciò che abbiamo creato E' davvero qualcosa di impensabile Comunque c'è nebbia Hai notato? Si 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 Proprio molta 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 Perché hanno capito che ce ne vogliamo andare Hanno capito che ce ne vogliamo andare Quindi mi stai dicendo Che a un chilometro da qui c'è la terra E per colpa della nebbia noi non la vediamo ancora Lo spero Lo spero Perché qui non può essere che sia infinito Non può essere Raccattiamo di nuovo tutto Ributtiamo giù palme Ne voglio fare altri Facciamo altri 50 Vai Ok Sono gli ultimi 50 Se dopo questi 50 non c'è Sarà decretato che la mappa è infinita O comunque semi infinita E quindi ci arrenderemo Cosa sta facendo signora Pasquala? Si sta di male i denti Vai via Se ne va Ma no Ma che dispetto ho già Vabbè Lascia bucati Lascia stare Perché ne ho 50 perfetti Perché ne ho 50 perfetti Magari proprio per uno Non arrivi E che devi fare Comunque guarda una cosa Cocco qui Un pochettino Sali qua Guarda la farm E vabbè Ma siamo strapieni Così tu arrivi Quando te ne serve Te ne prendi un pochettino Quello che vuoi Assolutamente si A chi appi E te ne vai via Allora infatti abbiamo bisogno di bere in fretta Che sto Si stiamo morendo Ok perfetto Ma che prendi ne altri per il viaggio Mi sa che ci siamo Mi sa Si Una Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici Tredici Quattro Devi contare fino a 50 Sei Sette 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 Venti Vasta Vai 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 Vediamo i numeretti che scendono Quindi capiamo Si me l'ha divertente A me sembra che stia diventando più marcato Però magari sto solo impazzendo Però c'è qualcosa Dici Io vedo qualcosa Non lo vedi un po' più Definito Non lo so No forse è uguale anche quando ci giriamo dalle altre parti Guarda le altre parti esatto Si vedi anche verso la nostra zatter E' uguale E' tutto uguale Siamo sicuri Boh puoi fare l'ultimissimo tentativo Non lo so Dei altri 50 Gli ultimi 50 Non è che sono proprio Accontentami Gli ultimi 50 Diamo E cioè Diciamo per certo che non c'è nulla Quindi confermiamo al 100% che non c'è nulla Sì perché dai più lungo di così Guardate quanto siamo Se ci fosse stato qualcosa Almeno in lontananza Dovremmo riuscire a vederlo Invece no C'è sempre questo orizzonte Che anche se ti gira il contrario Rimane identico Ok E non sta cambiando niente O forse stiamo iniziando ad avere le allucinazioni Iniziamo a vedere le terre che non ci sono E potrebbe essere Pasquala sta seguendo La nostra strada della salvezza Forse abbiamo bug No Non ci provare Non ci credo Non vuole che ce ne andiamo Come ti sei Si è affezionata a noi Messa Disgraziata Vattene via Non c'è nulla 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 300 e passa piattaforme Non sono bastate Non si vede più neanche la sagoma Della nostra base Non si vede nulla Non si vede niente Voglio fare un test Che cosa? Se arriva lo squalo? Sì Guarda che se muori Perdiamo tutto Lo so Dai no Non puoi perdere la nostra base Lo so Però dobbiamo fare un test Dobbiamo capire Mi viene paura però Peccato 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 Però nel prossimo episodio Secondo me facciamo davvero Una cosa che funziona Ovvero intrappolare Pasquala Perché secondo me Avete presente Ogni volta che ci buttiamo in acqua Si nota proprio Come Pasquala si interessa A noi inizia a venire Averso di noi Tutti gli squali Tutti gli squali Ma Pasquala è più interessata ancora Perché gli piacciamo proprio Da assaggiare Quindi Ebbè abbiamo ucciso il marito Esatto Abbiamo l'esca Senza un ruolo di dubbio Abbiamo una tattica Per poterla chiudere Dentro un posto Quindi La trappola secondo me Può funzionare L'unica cosa Si vede ancora la nostra base Lo so L'unica cosa Che potrebbe rovinare Il nostro piano È il fatto Che magari rimane Cioè Passa attraverso E se ne va Dici Potrebbe succedere Ma non mi sembra Che vada molto Attraverso le piattaforme Quindi non lo so Vedremo se sarà Una delusione Anche il prossimo episodio Se troveremo una gioia Nel catturare uno squalo Se riusciamo a farlo Esatto Epico Quindi prossimo episodio Facciamo così Per questo episodio Ci fermiamo Speriamo che Vi sia piaciuto questo video A breve Secondo noi Uscirà anche Un aggiornamento del gioco Speriamo che sarà interessante Ovviamente Lo porteremo subito E per ora Continuiamo a fare Questi esperimenti Nei commenti Continuate a consigliarcene Così Continuiamo a fare Le peggio cose E a perdere ore Delle nostre vite Che potremmo utilizzare In cose Decisamente più utili Ma cosa c'è di più utile Nel cercare la terra ferma In un gioco Qualsia di cosa Cioè no Qualsia di cosa E cosa c'è di più utile Di cercare di addomisticare Uno squalo Cioè potresti essere Quello è già meglio Il primo che si fa L'acquario con gli squali In mezzo all'oceano Con una zattera Cioè che scherzi Che scherzi Eh beh Beh ragazzi Scusate Se vi ci sono Sentici un bel like E questa è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdermi Di altri video Ciao E alla prossima Ciao 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 ciao